ciao ragazzi ma soprattutto buon feragosto a tutti i miei iscritti e non oggi 15 agosto 2017 come promesso ecco l'estrazione dei premi concessi da mano mano punto it prima di iniziare se non avete vinto ma siete appassionati a questa meravigliosa forbice o qualsiasi altro oggetto preso dal catalogo mano mano e vorrete acquistarlo vi chiedo gentilmente di farlo utilizzando il mio link di affiliazione riportato in descrizione almeno aiuterete anche me finanziando una piccola parte e per avere tanti altri concorsi in futuro se farete acquisti dal catalogo mano mano utilizzando i miei link di affiliazione state sicuri che concorsi come questo saranno molto più frequenti e con premi più ricchi avete capito senza perderci troppo in chiacchiere andiamo prima a vedere se ci fossero commenti in attesa di revisione per non escludere nessuno dal concorso infatti come presumevo a parte questo furbetto che ha messo più volte lo stesso commento per aumentare le probabilità di vincita ci sono altri commenti da approvare in modo che anche loro possano partecipare al concorso in quanto esclusi erroneamente da youtube per chissà quale strano motivo abiliteremo solo quelli idonei e non i furbetti ho visto che siete stati in tantissimi come sempre ho potuto notare che l'oggetto più interessato è stato la forbice usag professionale bravissimi adesso è il momento dell'estrazione e andiamo in un sito dedicato perché sarà lui stesso a prendere un a caso tra i commenti pubblicati e quello estratto sarà il vincitore attendiamo che il sito faccia una verifica in modo da prendere solo i commenti unici nel senso che i doppi commenti pubblicati da un solo utente non verranno conteggiati completato il processo di analisi 1720 su 1772 siete stati veramente molto bravi adesso possiamo procedere al primo estratto fortunato ma attenzione bisogna aver rispettato il regolamento tramite apposito banner vedremo adesso chi si aggiudicherà il primo dei cinque premi in palio ecco il primo vincitore g elettronica andiamo a vedere se il nostro amico youtuber si è attenuto a regolamento apriamo una nuova scheda come promemoria e andiamo a vedere se il mio canale quello di mano mano sono presenti perfetto molto bravo sei il primo vincitore di questo concorso e hai vinto il set chiavi più sette giravite da te scelti passiamo alla seconda estrazione riccardo piccioli complimenti tu sei il secondo vincitore ma vediamo anche tu se ti sei tenuto a regolamento nuova scheda e controlliamo purtroppo non vedo nessuna iscrizione e quindi non idoneo rimosso purtroppo il nostro amico non si è attenuto a regolamento e cioè non si è iscritto al mio canale neanche al canale di mano mano come invece richiesto da regolamento lo so potrei chiudere un occhio ma le regole purtroppo vanno rispettate anche come rispetto nei miei confronti per il tempo che ho dedicato per voi se devo regalare un premio preferisco darlo a chi segue che ha interesse a seguire i miei lavori e progetti e non a persone di passaggio che probabilmente il loro unico interesse è quello di vincere un premio magari non sarà così ma le regole sono uguali per tutti mi dispiace credetemi non è piacevole per me tutto questo ma lo faccio anche rispetto a tutti quelli che al contrario si sono attenuti a regolamento con relativa iscrizione a parte questo continuiamo il secondo vincitore è fabrizio campioni che ha scelto la bellissima forbice andiamo a vedere le iscrizioni perfetto vedo già l'iscrizione a mano a mano e sono sicuro che è un mio vecchio iscritto e infatti eccomi qua presente complimenti fabrizio sei il secondo vincitore ti sei aggiudicato questa meravigliosa forbice passiamo alla terza estrazione francesco pinto complimenti sei il terzo vincitore ma solo se anche tu ti sei attenuto a regolamento eccoci qua il mio e il canale di mano mano insieme bravissimo francesco anche tu hai scelto le bellissime forbici usag che potrai ricevere grazie a questo concorso e a mano mano passiamo alla quarta e penultima estrazione zik 72 fra a parte il bizzarro ma simpatico nick hai vinto e guarda caso anche tu hai optato per le forbici usag ma allora vi sono veramente piaciuti ma sarà idoneo anche lui ed eccoci presenti complimenti zik 72 hai vinto la forbice professionale ecco l'ultima estrazione che porterà via anche l'ultimo premio rimasto chi sarà il vincitore eccolo lorenzo conti complimenti hai optato per i due oggetti ma vediamo se ti sei iscritto ai nostri canali peccato purtroppo anche se a male in cuore non posso darti l'oggetto da te desiderato come ho fatto per riccardo piccioli e sono costretto ad escluderti dalla vincita ma cosa vi costava l'iscrizione bastava un click e tra l'altro con l'iscrizione potevate essere avvisato ogni volta che pubblicamo un video concorso vabbè diamo la possibilità ad un nuovo ripescaggio che sarà andrea francescani che ha scelto invece il buono per l'acquisto di un minidremel speriamo che almeno lui sia edonio è incredibile neanche lui vabbè un'altra estrazione scartato e ripescaggio ed ecco passione cnc ti prego fa che almeno tu abbia rispettato il regolamento anche se mi sembra di averti visto nei commenti di qualche mio video vediamo tra i suoi iscritti ecco intanto quello di mano mano ehi vedo un grandissimo canale d'amico sabito risi che vi suggerisco assolutamente l'iscrizione al suo canale se siete amanti del fai da te ed istruzione visto la qualità dei suoi contenuti mi raccomando fateci un salto sul suo canale ma continuiamo la ricerca oh ecco finalmente anche il mio quindi abbiamo tutti e cinque i vincitori e per il momento mi fermo qua non faccio altre estrazioni per non creare confusione mi raccomando siete voi che dovete farvi sentire io purtroppo non ho modo di contattarvi a meno che non avete un canale avviato con possibilità di inviarvi messaggi privati in alternativa vi lascerò molto tempo a disposizione 30 giorni partendo dal 15 di agosto dopodiché se non vi farete sentire i vostri premi non saranno concessi a nessuno per tutti quelli che non hanno vinto non disperate sono un concorso e tra l'altro gratuito quindi non abbiate na male farò tanti altri concorsi quindi se non sarà questa volta sarà la prossima ok prima di lasciarvi vorrei ringraziare mano mano punto it per l'iniziativa di questo concorso e per gli oggetti da me scelti e visionati messi a disposizione per voi mano mano ripeto è un gigantesco store online con più di 200.000 prodotti che vanno dal fai da te al giardinaggio eccetera ed è uno store che pensa anche a noi youtubers con queste interessanti iniziative se volete fare acquisti con mano mano avrete sicuramente qualità velocità e supporto ai massimi livelli per ricevere il premio dovete contattarmi con un messaggio privato dal vostro canale youtube che avete usato per partecipare e rilasciare il vostro indirizzo email poi vi farò mettere in contatto con chiara una promotrice di mano mano punto it sarà lei a chiedervi l'indirizzo per la spedizione e l'oggetto da voi scelto e vi verrà spedito senza pagare nessuna spesa di spedizione grazie a tutti a nome mio e a nome di mano mano punto it per la vostra partecipazione un abbraccio e al prossimo video tutorial buona continuazione da daniele tartaglia